Errol Lloyd non ebbe una formazione burlesca ma accademica, studiò arte drammatica e come appunto a Serie Varoc è stato il più grande attore ad interpretare un ruolo comico pur non essendo effettivamente tale, non era un comico. Era un grandissimo interprete che si è adattato a fare il comico all'inizio con esiti sufficientemente buoni ma non eccezionali e con il passare degli anni adottando quegli occhiali così particolari da uomo comune, da ragazzo della porta accanto, è riuscito a creare un'immagine universale perché appunto tutti si possono identificare con Errol Lloyd in quanto Errol Lloyd era l'uomo comune negli anni venti ma se vogliamo potrebbe essere l'uomo comune anche oggi in quanto non ha un trucco esagerato appunto, nei suoi film non ci sono delle gag impossibili tra virgolette, cartunesche e quindi guardando Errol Lloyd, soprattutto l'opera più compiuta, più raffinata di Errol Lloyd, noi possiamo riscontrare una verosimiglianza che è fondamentale nel mondo del cinema, soprattutto il cinema poi si è sviluppato in seguito in quella direzione, nella direzione tracciata da Errol Lloyd. La commedia romantica nella quale anche la donna aveva un ruolo importante, non era meramente un oggetto da conquistare alla fine del film come accadeva nei film ad esempio di Buster Keaton o di moltissimi altri comici a lui contemporanei, ma soprattutto con l'avvento di Giobina Rolston come Leading Lady Errol Lloyd ha creato delle storie d'amore anche molto toccanti, anche molto appunto nelle quali lo spettatore poteva identificarsi e questo è fondamentale perché poi il cinema, la commedia cinematografica, ma in generale il cinema, è andato nella direzione del realismo, anche nella comicità. Fino ad oggi esiste il genere commedia romantica e se andiamo a guardare i film di Errol Lloyd ci rendiamo conto di come lui abbia gettato le basi, le fondamenta per la commedia romantica. Questo non è stato recepito dai critici perché Errol Lloyd, dovete sapere, che era produttore dei suoi film, detestava la televisione, quindi a differenza di tutti gli altri suoi contemporanei, non ha goduto quando negli anni 50, 60, 70 c'è stata una massiccia distribuzione di questi film in tv per una riscoperta, ecco, delle comiche, del cinema muto, perché lui appunto, come stavo dicendo, era produttore, deteneva i diritti di tutti i suoi film che aveva realizzato in autonomia dal 1929, dalla metà degli anni 20, dal 1925 in poi, e aveva acquisito i diritti, pensate un po', addirittura dei film che aveva girato prima di essere produttore, quelli con la Roche, con la Rowling, che era la casa di produzione di Roche prima ancora che si mettesse in proprio, quindi si era assicurato tutta la sua produzione cinematografica, aveva nella sua residenza rigogliosa californiana tutti i 16 mm, i 35 mm, i negativi originali, forse anche qualche scarto, non possiamo sapere quello che lui avesse, ma aveva preso tutto, tutto, aveva preso tutto quello che si poteva prendere, ed era anche abbastanza geloso di quello che aveva fatto, non accettava le pubblicità, non accettava gli intermezzi, anche un grandissimo come Stan Laurel non accettava tutto ciò in quel periodo, ma lui non poteva permettersi di, in quanto non disponeva dei diritti dei lavori che aveva girato con Oliver Hardy, di fermare questo scempio, quello che lui riteneva uno scempio, quantomeno. Errol Lloyd era il detentore della sua opera e poteva farlo, quindi questo blocco non ha permesso ad Errol Lloyd di essere apprezzato dai posteri, come è stato apprezzato Buster Keaton o anche altri, gli stessi Lorle Hardy sono stati apprezzati perché profondamente radicati nella cultura popolare. Errol Lloyd apparteneva alla cultura popolare fino agli anni 20, 30, poi è scomparso dai radar, dunque gli stessi critici, quando sono andati a studiare per diventare critici, non hanno avuto a disposizione il materiale necessario per contestualizzare l'opera di Lloyd, è rimasto così sul vago, cioè veniva considerato un comico un po' figlio dei suoi tempi, con una spinta ottimistica propria degli anni, dell'epoca del jazz, degli anni 20, che ormai era un po' datata, ma non c'è niente di più assurdo di questo, perché se andate a vedere dei film, i migliori film di Errol Lloyd, non solo Safety Lest, che è un capolavoro assoluto, citato persino da Marty Scorsese, ma ci sono tantissime altre vette insuperabili di Lloyd, voglio nominarne qualcuno, Girl Shy, un film veramente geniale, la cui parte finale fu imitata addirittura nel film Il Laureato, nella fine degli anni 60, per far capire l'impatto che ebbe su chi lo vide negli anni 20, The Freshman, che diede vita alle commedie basate sulle università statunitense, sui college americani, un film spassosissimo, perfetto, era un attore versatile, eclettico, polietrico, straordinario, Errol Lloyd, Posso nominare The Kid Brother, film a cui non manca nulla, non ha tempi morti, non mancano le gag, non manca la suspense, non manca anche una bellissima appunto storia d'amore tra lui e la protagonista femminile Jobina Ralston, come posso non citare Speedy, girato a New York, nella New York di fine anni 20, come posso non citare un film con una fotografia eccezionale, con ogni sequenza calibrata in modo magistrale, divertente dalla prima all'ultima inquadratura, i film di Errol Lloyd sono tecnicamente perfetti, direi superiori anche a quelli di Buster Keaton, Perché Buster Keaton però viene oggi più apprezzato rispetto a Errol Lloyd? Perché è stato sicuramente visto maggiormente dalle varie generazioni che si sono susseguite, e in seguito, diciamo anche un po' per la sua apparenza così particolare, un po' astratta, che ci porta a riflettere probabilmente di più di quanto i film di Errol Lloyd ci potrebbero portare a fare. Buster Keaton è stato un grandissimo, un gigante, semmai ne parlerò in un altro video, ma Errol Lloyd non era assolutamente inferiore a Buster Keaton.